Benvenuti nel mondo degli orologi Piaget. Piaget è un marchio di orologi di lusso svizzero fondato nel 1874 da George Edward Piaget, un orologiaio che produceva componenti di movimento per altri marchi di orologi. Da allora, il marchio si è affermato per la sua innovazione tecnologica e per l'eleganza del design. Piaget è famoso per la sua gamma di orologi ultrasottili, che utilizzano movimenti meccanici di altissima precisione. Il marchio è stato il primo a lanciare un orologio da polso ultrasottile nel 1957, il Piaget altiplano, che ha stabilito uno standard per gli orologi ultrasottili. La gamma di orologi Piaget comprende anche modelli con complicazioni, come il tourbillon, il cronografo e il calendario perpetuo. Le complicazioni sono funzioni aggiuntive che vanno oltre la funzione di base di tenere il tempo e richiedono una grande abilità tecnica per essere realizzate. I materiali utilizzati da Piaget per la produzione dei suoi orologi includono oro, platino, diamanti e pietre preziose. Questi materiali pregiati sono utilizzati non solo per la loro bellezza, ma anche per le loro eccezionali proprietà fisiche che garantiscono la durata e la precisione dell'orologio. La qualità e l'attenzione ai dettagli sono alla base della filosofia di Piaget, il che si riflette nei suoi orologi, noti per la loro eleganza e raffinatezza. Il design pulito e minimalista degli orologi Piaget mette in risalto la bellezza dei materiali utilizzati, creando un'esperienza visiva e tattile senza precedenti. Inoltre, Piaget ha una lunga tradizione di collaborazioni con artisti e designer per creare orologi unici e innovativi. La reputazione di Piaget nel mondo degli orologi di lusso è impeccabile, grazie alla sua attenzione ai dettagli, alla qualità dei materiali e alla precisione dei suoi orologi. Se stai cercando un orologio di alta qualità che unisca tradizione e innovazione, Piaget potrebbe essere la scelta giusta per te.